ariete il vostro entusiasmo sta scemando ma un amico potrebbe darvi motivo per ritrovare la passione fidatevi di lui toro ci sono persone che vorrebbero farvi credere che l'impresa che state affrontando sia impossibile non date gli retta gemelli procedete con i piedi di piombo in particolare se vi state spingendo in terre sconosciute potreste trovare dei pericoli dove meno ve li aspettate cancro ambita qualcosa di più anche se non riuscite a capire di cosa si tratti è tornato il momento di individuare i vostri bisogni e i vostri obiettivi leone iniziate a lavorare un po prima del solito così da avere più tempo per fare le cose più sarete efficienti meglio sarà vergine entrosera potreste trovarvi a dover affrontare un viaggio materialmente o solo nella vostra mente siate pronti a ogni evenienza bilancia potreste non esservene resi conto ma qualcuno vi sta osservando attentamente e mettendo alla prova tutto sarà notato scorpione di solito siete individui molto socievoli anche se a modo vostro oggi però avrete bisogno di totale solitudine sagittario avrete tutto l'aiuto che vi serve ma non delegate tutto agli altri usate la vostra creatività e datevi da fare capricorno più sarete abili a promuovere voi stessi maggiori saranno le probabilità di ottenere ciò che desiderate mettete da parte la vostra modestia acquario avete la sensazione di essere intrappolati in abitudine che non vi permettono di esplorare il vostro lato creativo sfuggire alla routine dipende solo da voi pesci effettuate con molta attenzione certi calcoli non potete correre il rischio di commettere degli errori che vi farebbero perdere tempo